Buongiorno amici di Quotidiano.net, questa è la nostra web tv, subito una notizia davvero importante. Oggi alle 15 in consiglio comunale di Bologna Flavio Del Bono ha rassegnato le dimissioni, non è più sindaco di Bologna. Questa è la svolta clamorosa che è accaduta oggi. Ne parliamo con Gabriele Canè, condirettore del Quotidiano Nazionale. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a te, buongiorno a voi. Allora queste dimissioni sono il frutto di una forte pressione del PD sul suo sindaco? Intanto sono il frutto di forti scioccheffe commesse da Del Bono nel suo esercizio del mandato di vicepresidente della regione e assessore al bilancio della regione e anche nel suo mandato di fidanzato della signora Cinzia Cacchi che ha subito un trattamento esattamente non elegante e che come capita nelle umane cose ha voluto farlo sapere e il farlo sapere è costato la poltrona al sindaco. Quindi è innanzitutto il frutto di sue leggerezze, non sappiamo se con rilievi penali, questo sarà la magistratura a definirlo, ma certamente con un enorme rilievo etico-politico, diciamo quello che ha indotto giustamente il sindaco a lasciarsi. Su questa vicenda ovviamente si sono innescate pressioni politiche, prima di tutto è quella del suo partito, del PD, che deve affrontare le regionali con una vicenda che ha riguardato il vicepresidente della regione e quindi cercherà di farlo avendo rimosso il più rapidamente possibile questo ostacolo. Provocando però un trauma senza precedenti nella stabilissima Bologna in cui pochi sindaci si sono alternati con enorme regolarità e in cui la vicenda di un commissariamento è assolutamente inedita. Commissariamento o di una fine anticipata della legislatura. Proprio su questo si sono accese le prime polemiche in Consiglio Comunale. Se Flavio Del Bono infatti avesse rassegnato le dimissioni prima del 21 gennaio, data indicata in questi termini, sarebbe stato possibile per i bolognesi tornare alle urne e votare per quanto riguarda il prossimo sindaco nella stessa data delle regionali, cioè a fine marzo. Una coincidenza che al partito di maggioranza della città e della regione al PD certamente non avrebbe fatto piacere, perché votare per la regione e per il comune nella stessa data, essendo che per il comune si vota perché è successa questa cosa al sindaco in quanto vicepresidente della regione, è indubbiamente un'ombra che avrebbe accompagnato fino a quella data le elezioni regionali. Non a caso oggi il candidato alla presidenza dell'Emilia Romagna del PDL, Giancarlo Mazzucca, nostro amico e collega, ma a parte questo ora impegnato in questa battaglia, si è chiesto legittimamente, politicamente, se sia ancora il caso che Arani sia il candidato del centro-sinistra, non perché Arani abbia commesso, intendiamoci, nulla di irregolare, ma in quanto responsabile oggettivamente, in quanto capo di questa giunta, di qualcosa di probabilmente anche solo veniale accaduto all'interno di questa giunta. Quindi è una concomitanza che il PD ha certamente voluto evitare, poi la tempistica si dipanerà a secondo di quando poi effettivamente saranno formalizzate le dimissioni del sindaco e di che meccanismo si innescherà, cioè se si andrà immediatamente a un voto, probabilmente che potrebbe essere da metà aprile a metà giugno, o se per arrivare al voto ci vorrà una gestione commissariale in mezzo e effettivamente la gestione commissariale può avere una durata anche non brevissima. Comunque Bologna resta senza governo. Ecco, di fatto è questo il punto, Bologna rimane senza governo, non sappiamo ancora per quanto, potrebbe esserci l'intervento del governo centrale, del governo di Roma naturalmente con un decreto per accorciare i tempi della consultazione. Un'ultima cosa Gabriele, oltre al PD ha giocato un ruolo anche la pressione dell'Italia dei Valori in questa vicenda del Bono. L'Italia dei Valori è l'alleato fondamentale del PD per raggiungere la maggioranza in tante realtà, compreso probabilmente anche Bologna e l'Emilia Romagna. Il PD ha sempre fatto, in qualche modo anche in modo forzoso, della questione morale con o senza virgolette il suo core business e quindi il punto centrale della sua collocazione politica e delle sue alleanze. Certamente l'Italia dei Valori, ripeto, hanno fatto pressioni sul PD perché quest'ombra, non diciamo macchia, venisse rimossa e trovando nel PD evidentemente ascolto perché il primo interessato a che l'ombra fosse accantonata era proprio il PD medesimo. Molto bene, grazie Gabriele Canel. Grazie a voi. Ai prossimi appuntamenti.